io sono un altro burattino mi vedete vero vi voglio presentare questo libro è pieno di colori e di disegni grandi grandi belli da guardare proprio con mamma e papà che fa la luna di notte vediamo qualche pagina zia dori devi girare la pagina appena alzata si mette a disegnare migliaia di stelle per la via lattea guardate ma che bella mattitona gialla che ha è bellissima vero ti adori fammi vedere un'altra pagina per favore e guardate questi disegni cosa fa la luna chiude ogni persiana e tenda e a nanna tutti quanti guardate wow ma ma assomiglia un pochino un'altra pagina e poi basta dai zia dori mette un po di rugiada per far bello il sorgere del sole wow ma che bella ma guarda ma guarda che bella è che i disegni sono proprio belli da guardare proprio insieme con mamma e papà ciao bambini vi saluto ciao 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 ciao